Buongiorno, oggi vi faremo vedere come fare la focaccia genovese. Allora, ci servirà un chilo di farina, 650 grammi di acqua, 30 grammi di lievito fresco, quello di birra, 15 grammi di sale e 60 grammi di olio. Allora, io qua ho già pesato la farina con il sale e la vado a buttare nel nostro robottino. Poi aggiungo il lievito e lo zucchero, e poi metterò acqua e olio e facciamo impastare. Iniziamo piano e aumentiamo leggermente la velocità. Se man mano poi vediamo che l'impasto sarà troppo buono, lo basterà aggiungere farina, o se è troppo duro, aggiungiamo un po' di acqua. Adesso lo vediamo subito. Ok. Ecco, il nostro impasto adesso è pronto. Vedete che tutti gli ingredienti ci sono ammazzonati. Ora lo togliamo. Ah, mi ero dimenticata di dirvi, la farina, di utilizzare la farina forte, quindi utilizziamo la manitoba. E la dose per un chilo è per una teglia di 60 per 40. Ok. Adesso qui la mia è più di un chilo. Adesso facciamo così. Andrò a pesare un chilo di focaccia. Se riesco. Ok. Ecco, per fare la focaccia bella, morbida e spugnosa, mettiamo, come ho fatto io, un po' di olio di semi sulla teglia, senza mettere la carta da forno, perché poi andremo a cuocere la temperatura alta e rischiamo che la carta ci si bruci. Con l'olio invece resterà bella truffante. Ecco. Questa è? Ok. E facciamo, mettiamo la nostra pallina al centro della teglia e la lasciamo lievitare per circa un'oretta. Ok, adesso è passata un'ora, vedete la nostra focaccia come è lievitata e andiamo a stenderla con le dita. Ecco, mi ero dimenticata prima di dirvi che quando mettiamo la palla di pasta a riposare, la spennelliamo con l'olio per far sì che non si secchi la pasta sopra. Ok. Vedete come si allarga bene con le dita? Così. Adesso, che è tutta bella larga, perfetto. Ok. Il segreto per far restare la genovese bella morbida è preparare un composto di acqua e olio di semi, vedete? Emulsionato. Io qua ho fatto per una teglia 40x60, la dose è 80 grammi di acqua e 80 grammi di olio. Lo emulsioniamo e ce lo stendiamo sopra così. Vedete? Senza paura. Così. Ok, così ce la farà restare bella morbida. Se la vogliamo fare semplice, la boccherilliamo già con le dita così. Oppure possiamo farle farcite, come abbiamo fatto per le pizzette e quelle piccoline. Stesso procedimento. Con zucchine, che lo condite olio e sale, pomodorini conditi sempre con olio e sale. E patate che le ho condite con olio e sale e del rosmarino. Ce le mettiamo sopra adesso e poi le mettiamo di nuovo a lievitare per un'altra 45 minuti, un'oretta, dipende dalla temperatura che abbiamo in casa. Vedete? Ce le mettiamo su subito, così. E poi quando la focaccia lieviterà, i nostri pomodorini resteranno incastonati dentro. Adesso ci vediamo quando la focaccia ha lievitato. Ecco, ora è passata circa un'oretta. Vedete come ha lievitato bene la nostra focaccia. Su questa qua semplice bianca ci mettiamo un po' di sale fino, così, e del rosmarino. Io ho questo qua secco, ma se ce l'avete a casa, nel vostro orto, nella vostra sede, potete mettere il rosmarino fresco, che gli darà un ulteriore profumo. L'importante, adesso che lievitate, è non toccarla, non schiacciarla. La andiamo a infornare direttamente così, a 230 gradi circa, per 5-6 minuti. Vedete anche qua le patate. L'abbiamo fatto. Inforniamo. Poi mettiamo zucchine e pomodorini. Ecco. E poi abbiamo quella alle olive. Vedete com'è bella? Io non ve l'ho fatta vedere. Comunque, io le ho fatte anche rotonde. Ho fatto lo stesso procedimento. La pallina pesava circa 130 grammi. E le ho schiacciate già in principio, perché queste qua le ho lasciate bianche. Le andremo sempre a infornare a 230 gradi, per un massimo 5 minuti. E adesso ci vediamo quando le sforniamo. Ok, adesso vedete, queste qua sono le nostre fogacce sfornate. Sono rimaste tutte belle morbide. Possiamo usarle come vogliamo. Possiamo mangiarle così, oppure farle quadratini per i buffet. Vedete, non si fa un po' le rotonde. E se vogliamo, sopra possiamo spennellare con un po' di olio, in modo da farle rendere più lucide. Questa era la nostra focaccia alla Genovese. Ci vediamo al prossimo video, con la prossima ricetta.